Sono state svelate questa mattina le otto compagnie che dal 16 al 29 ottobre 2023 saliranno sul rinomato palco del Teatro Rossini in occasione della 76esima edizione del Festival GAD. Un cartellone prestigioso che sarà composto dalle otto compagnie teatrali selezionate sulle 117 totali che hanno presentato domanda, confermando una ricca varietà di proposte e un coinvolgimento da nord a sud di tutta l'Italia del teatro non professionistico. Le compagnie si alternano fra i grandi ritorni e chi debutta a Pesaro. Partiamo con il Teatro Villaggio Indipendente di Torino, una compagnia che più volte è stata a Pesaro, più volte ha vinto, che porta in scena Nove Giorni di Massimiliano Giacometti, poi la compagnia Teatro Avalon di Battipaglia con Così è, se vi pare, di Luigi Pirandello, poi la Corte dei Folli di Fossano che presenta Nel nome del padre di Luigi Lunari, le note di teatro di Gualdo Tadino con Copenaghen di Michael Freyne, Futura Teatro di Firenze che porta in scena una commedia divertentissima, prestazione occasionale di Francesco Brandi, poi Ramaiolo in scena di Imperia che ancora porta in scena una grande commedia, fanno in mani di Ray Cuney, un grande commediografo americano per una serata di grande divertimento. Teatro del Castello di Foligno, altro ritorno prestigioso, una compagnia che ha vinto tante volte al Festival di Pesaro che torna portando in scena La Calandra di Bernardo Dovizzi e poi I Giardini dell'Arte di Firenze che porta in scena un spettacolo molto particolare perché è tratto da un film, un film di Federico Fellini, La Strada, quindi il circo che viene in scena al Teatro di Pesaro per concludere questo Festival di cui siamo particolarmente orgogliosi. Il ritorno a Rossini per il nostro Festival è il ritorno a casa, è il ritorno al primo logo nel quale c'era proprio la fila nei botteghini per andare a vedere le rappresentazioni. È un teatro importante che fa tremare i polsi però che dà anche l'atmosfera magica del teatro che un teatro moderno non dà. Quindi le compagnie che abbiamo scelte sono tutte di primo ordine e avranno nel teatro Rossini una degna posizione, un degno collocamento.